In l'area di Baronissi vediamo com'è la situazione di degrado in quest'area. E' particolarmente grave il fatto che da pochi metri dal terreno escono immondizia di tutti i generi. In particolare gravità il fatto che alcuni pezzi di amianto, di quello che sembrerebbe amianto, è presente in quest'area. Un'area che è a pochi passi da il campetto di tennis e di pallavolo e di calcio dove giocano i bambini, pochi metri proprio come dovete vedere, e soprattutto ha una sezione di degrado che è generalizzata. Vediamo più avanti, scarichi di immondizia di tutti i tipi, e hanno nello stesso parco del convento, qui a pochi metri dietro al cancello. Chiuso, ma comunque uso brutto, in cui possono entrare tutti, aperto al lato, in cui ci sono stati anche presenti tossicodipendenti e di numerose siringhe in passato, tanto da costringere i monaci del convento ad affiggere un cartello nei giorni scorsi attenzione alle siringhe, un'azione quindi di degrado e di pericolosità per i tanti giovani che frequentano quest'area centralissima di Baronissi. Ancora un atto vandalico alla stazione dei Baronissi, però ancora la devastazione e distruzione, come possiamo vedere, dalle immagini che ci giungono. Un estintore qui giace a terra in questa aiola malattenuta, e come possiamo vedere una cosa più grave, molto più grave, è la devastazione di questa porta in vetro, sfondata evidentemente con pietre e con sassi, che adesso giace così abbandonata. Situazione di degrado in generale nella stazione di Baronissi, che è stata riqualificata da poco, lo ricordiamo, le solite scritte vandaliche che con puntuale periodicità compaiono in quest'area, manca qui un attrezzo, manca qui un attrezzo che serviva agli addetti della ferrovia, cosa molto più grave, cosa molto più grave, sono state quasi subito divelte e rubate le due macchinette che servivano ad obliterare i biglietti. Poi qui le due, le due macchinette che erano state a posto da pochissimo tempo, pochissime settimane. E' stato integrato anche nell'area antistante, da poco avevano anche inserito gli orari dei treni, questo per fortuna ancora in un'ottima condizione, mentre questo è stato completamente detoppato da una scritta. altre scritte, possiamo notarle qui a sinistra, alla stazione, con questo muro che quasi ogni mese viene ripitturato e poi puntualmente vandalizzato. E' stato anche nella fontana antistante, alla stazione, da anni ormai, da mesi, anzi, senza acqua, senza luci e con una grande quantità di immondizia all'interno. Come stiamo a vedere dalle immagini, la mesi, la situazione è questa, molto grave, e la pagamentazione in legno oramai quasi completamente marcita. Grazie. 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 Grazie.